e benvenuti in questo modo ora in questo video vi faccio vedere cosa fare se la switch si blocca con uno schermo nero in questo caso la mia non è bloccata perchè si accende ma che si accende però se si dovrebbe bloccare in questo caso anche cliccando il tasto power non si accende dovete tenere premuto il tasto power per 12 seconde e poi subito dopo di cliccarlo vediamo il prossimo video ciao